non perdiamo altro tempo e facciamo questo benedetto unboxing allora apriamo da qua madonna la custodia è bella solida con la scrittina gopro molto bene apriamo allora subito salta all'occhio questo affare che dovrebbe essere dove si attacca la gopro si usa come manico bello impugnatura ergonomica da questa parte anche un pochettino piatto non so se lo riuscite a vedere da questa parte che lo rende ancora più comodo da utilizzare poi abbiamo un sacchettino allora questa è una molletta si può mettere così dove si vuole madonna come stringe bello molto fatto bene io ero abituato invece ho una vecchia nilox a questa vecchia nilox tra l'altro che sempre la mia ragazza me l'ha regalato tra l'altro che comunque finalmente ha fatto un salto di qualità perché questa fa cagare non è stabilizzata no è uno schifo finalmente ha fatto un salto di qualità questo sacchettino non ci serve più poi qua dentro abbiamo il cavetto che sarà per la ricarica sicuramente di tipo c poi abbiamo un po di agganci un po di vitine un altro aggancio un po più lungo un altro cosa da mettere sul casco abbiamo la batteria di ricambio perché siccome un bundle in più c'era il non so tanto la gopro ma c'era il il bastoncino questo qui i due gancettini la mollettina e anche la scheda SD un kit perfetto per iniziare possiamo dire qua ci sono tutte le istruzioni però come cazzo è c'è tutto ma non c'è la telecamera ma scusa c'era tuta sul mondo forse doveva essere qua dentro questo c'era la batteria ma possibile anche perché mi ha detto che l'ha presa proprio dal sito gopro incredibile porca puttana mi hanno fregato o forse no in realtà questo video lo sto facendo con la gopro io l'ho già aperta cazzo cazzo e quindi cosa ne pensate vi è piaciuto questo video fatemelo sapere perché è già stato fatto con la gopro che io non ho resistito avevo già aperta questa scatola ho dovuto rimettere dentro tutto che ho fatto più fatica a rimettere dentro le cose nell'ordine preciso come erano perché erano tutte cazzo incastrate non c'era spazio e quindi questo è il primo video fatto in probabilmente 4k con la gopro iero 9 forse la scatola potevo tenerla però fa niente ormai la butterò e niente ringraziamo michele molteni per l'idea di questa piantina fantastica di arredamento dell'ikea e basta adesso andremo a provare sicuramente so già che sarà migliore rispetto a quella che vi dicevo prima questa nilox comunque farò un video sicuramente dove le metto a confronto e niente adesso ci devo smanettare un pochettino perché ho visto che ci sono un miliardo di impostazioni che non so minimamente cosa servano e fatemi sapere se avevate già capito che la stavo utilizzando ma sicuramente sì perché la qualità ovviamente sarà migliore rispetto ai video precedenti datevi di iscrivervi al canale in modo tale da arrivare a 1000 iscritti in modo tale che tutte queste cose valgano a qualcosa per fare video decenti per qualcuno che riguarda altrimenti non avrebbe senso tutto questo e niente ci vediamo al prossimo video